10 anni di strade del vino, dell'olio e dei sapori, 10 anni di eccellenza, un vero e proprio fiore all'occhiello anche per la regione toscana. Certo, anzi più di 10 anni, le strade sono nate in Toscana prima ancora che in Italia nel 96, 10 anni di federazione, noi le abbiamo riunite tutte insieme per lavorare meglio, lavorare di più, abbiamo raggiunto la quota di 22 strade, sono partite con il vino, adesso c'è l'olio, ci sono tutti i sapori, la Toscana non è solo vino e tante altre cose belle stiamo andando ancora avanti, nonostante le crisi, nonostante tante polemiche, a volte noi toscani siamo così bravi, le strade lavorano ancora, lavoreranno ancora di più anche con l'aiuto pubblico che si riduce, ma un pochino ci sarà sempre, ora che sono state sciolte le APT e ancora di più abbiamo bisogno di queste associazioni che sono, ricordo, le uniche associazioni miste, pubblico-private, riconosciute dalla regione toscana che lavorano sul territorio quindi è un piccolo grande successo che oggi festeggiamo 10 anni di lavoro, tanti centri informativi nei paesi, tante segnaletiche per segnalare ai turisti dove sono cerchiamo di andare avanti nel nostro piccolo e speriamo di farcela Ecco, i sono dei progetti in questo senso proprio della regione toscana per valorizzare sempre di più l'attività delle strade del vino, dell'olio e dei sapori Certo, noi tutti gli anni come regione toscana mettiamo un piccolo pacchetto di finanziamenti e abbiamo finanziato appunto dicevo i centri informativi la segnaletica, le degustazioni, partecipiamo a importanti fiere eventi nel territorio, in Italia, in Toscana ma anche fuori d'Italia a settembre ci sarà una grande manifestazione alle Cascine a Firenze e l'ingresso di questa manifestazione sarà curato proprio dalle strade proprio per dare un segnale ai cittadini che l'agricoltura c'è ancora nonostante tante polemiche Ecco, quindi la regione toscana ci sarà, continuerà a dare il suo appoggio ripeto, queste sono le uniche associazioni miste pubblico-private riconosciute dalla regione